Mi chiede che per il 2022 ci si spera di più informazioni di riferimento di riferimento fiscale e che sia stato congiuntamente con il Ministero di Finanza che non cambiano di riferimento di imposto non solo per non essere differente, ma anche altri tipi di riferimento che noi come paese è di accordo con noi nel novembre 2020 ora che noi firmo il paese per ricevere la fianza inoltre in Holanda ora che tratta di cambiare di imposto, di riferimento fiscale noi stiamo insieme al Ministero di Finanza passiamo qui per brindere i nostri contribuenti con le informazioni necessarie chi è cambiare una riferimento? chi è cambiare una riferimento? con i nostri baiati cambiano qui e nel tempo di cambiare la riferimento di riferimento mi chiede che ora i nostri papi di riferimento sono con noi mesi di miedo di dire passiamo una riferimento sempre che non cambia e di una riferimento lo che cambia per me lo che cambia il sistema è un sistema la legge che è molto più facile, molto più semplice lo che cambia il sistema è anche nel nostro departamento che cobrano imposto, per esempio, in l'aduana e anche nel departamento di imposto cambia con il sistema che è molto più efficiente e anche lo che si ha visto ora che tratta di imposto che è che significa per le caia di governo e anche quello che significa per il commercio, quello che ha fatto un impatto per il consumatore, quello che ha fatto un impatto per il commercio e quello che ha fatto un cambio per la speranza per il terreno. Il nostro paquete ha avuto avuto diversi cambiamenti e il shifto di imposto in diretto, imposto in diretto, per esempio, l'economia, 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 l'economia e l'imposto in diretto, il cambio che non lo abbia di imposto in diretto, lo abbia in un'introduzione di un BTV, un sistema di imposto in diretto, è quello che si guarda il comunicazione e ci lo explica anche come il consumatore e il popolo in generale, lo voglio compensare per un cambio, un cambio di imposto in diretto, per cosa che noi non ci vediamo di poter comprare, per il plane existente, il calcolo, per dimostrare il plan di balanza, che non ci vediamo solo il imposto in diretto, ci vediamo un sistema di imposto in diretto di un sistema di imposto in diretto, per il sistema che non ci vediamo di un BBO, però dei messi un Rossella, da due una compensazione sì, non è né, c'è un'intrata进 con un benestante, con un understando e con un modo di ricevere un riparatito, con un minimo con un trato minimo lungo fino a 2.500 euro, quindi ci sono anche una balanza quando si busca o che tratta di una reforma e la informazione e la comunicazione sarà pronto del 1 di februari o che tratta di una reforma fiscale. Grazie a tutti.